Giorno I simpaticoni che amano celarsi nella sabbia, pronti ad azzannarti il piede nudo. Quattro bei pesci. Fu il bottino di guerra che lei preferì cucinare su un fuoco in spiaggia, allestito a regola d'arte, in modo da trovarsi all'ombra delle palme senza beccarci qualche noce in testa. Mentre i pesci si arrostivano. Carol, categorico. Pranzo e cena assicurati. No, stasera noci di cocco. Possibile. Girando lo sguardo alla ricerca, io non ne vedo sulla spiaggia, le abbiamo tutte raccolte e mangiate. Guardi dalla parte sbagliata, sono lassù. Sei matta, che vuoi, che vada lì, mi rifiuto. Tu no, io sì. Sei sbiellata, non ti lascio andare. Tutti quei bei discorsi per restare interi perché li ho fatti. Rilassa a ti. Per me è una passeggiata, invece di farla in piano, la faccio in obliquo. Mi aveva accennato a questa sua abilità, ma ero perplesso. Poi, va bene, se sei così sicura, saprai il fatto tuo. Se lo fai fin da piccolo diventa un gioco, fidati della tua bionda indigena. Dopo la siesta, andiamo a casa per prendere il necessario. E così fu. Con il macete sistemato sulla schiena ed un pezzo di corda tagliato dalla matassa del nostro ignoto scalatore, lei scelse le piante, vi salì e scese come uno scoiattolo. Con pochi colpi precisi fece cadere i frutti di cui avevamo bisogno, e qualcuno finì nella nostra dispensa nella previsione di un maltempo che avesse causato lo sciopero dei pesci e l'impossibilità di uscire. Si dimostrava sempre più saggia ed esperta, altro che ragazza viziata come all'inizio aveva voluto farmi credere. Questa ragazza nasconde qualcosa, ma il problema è cosa? Altra cosa da fare, era eliminare il cespuglio che impediva alla luce di entrare libera nella nostra caverna. Misi in pratica quello che avevo visto fare in video alla televisione, free climbing e rocciatore, grazie all'attrezzatura a disposizione. Non ero per niente a mio agio all'idea di essere sospeso come un salame e lavorare per rimuovere quel dannato arbusto. Con molta cautela raggiunsi il paziente ad un'altezza di 50 metri, più o meno. Eseguì una curata e faticosa operazione di chirurgica pulizia. Questa fu l'occasione per ringraziare madre natura di non avermi elargito la fregatura delle vertigini. Non perdemmo tempo e posizionammo un cristallo sul foro in alto, grazie alle guarnizioni di gomma e dai chiodi da roccia. In pochi giorni riuscimmo a sistemarci al meglio e un altro superstite dell'incidente ci abbandonò. L'accendino esalò l'ultimo respiro e Carroll mise in pratica la sua esperienza nel sostituirlo, non sfregando a due mani un legnetto su una base linea, ma usando al suo posto un archetto. Si ingegnò anche nella conservazione della brace per una successiva accensione, ma non ci si poteva fare tanto affidamento. Dopo tante imprecazioni imparai la tecnica.